Capace di intendere e volere, ma anche chiamato subito i soccorsi e tentato di rianimare la moglie, ha immediatamente confessato e ha collaborato per agevolare il processo e ha messo il proprio patrimonio a disposizione delle figlie. Queste le motivazioni della sentenza che ha condannato Riccardo Pondi, incensurato, a 24 anni per l'omicidio della moglie Elisa Bravi. Secondo i giudici, il massimo della pena, considerando appunto il quadro generale. L'accusa per Pondi aveva chiesto invece l'argastolo. Elisa Bravi fu uccisa una notte di metà dicembre del 2019 al termine di un litigio con il marito nella sua casa, a Gloria, di bagnacavallo nella camera da letto. L'uomo si scaglia sulla compagna. La sua aggressività, scrivono i giudici, fu innescata da una frase della donna «Devi farti curare» durante un diverbio dopo che l'uomo stava trascorrendo la notte visibilmente agitato. L'uomo da tempo si era convinto che la moglie avesse una relazione extraconiugale, che il suo telefono fosse intercettato e che una volta la consorte avesse cercato di avvelenarlo. Tutti eventi in realtà mai verificatisi dovuti a un periodo di sofferenza psichica di Pondi, diagnosticabile come disturbo depressivo-reattivo complicato dalla forte sintomatologia ansiosa. L'aggressione avvenne di spalle. Quando Riccardo Pondi iniziò a strangolare Elisa Bravi, la donna tentò di difendersi, di liberarsi, ma intuilmente. Un'aggressione però, come scrivono i giudici, che avvenne nel pieno delle facoltà mentali dell'uomo consapevole delle proprie azioni, il tutto sotto gli occhi delle figlie di 3 e 6 anni. Tutte aggravanti queste ultime, ma che, controbilanciate con il comportamento dell'uomo dopo l'assassinio, hanno portato alla condanna di 24 anni.